Allora, prima tappa del nostro on the road, siamo al piosco di Mimì, ok, Marco e Rappa stanno già scegliendo, vediamo un attimino tutto. C'è l'imbarazzo della scelta. Ah, io prendo, mi sa, un carpaccio mediterraneo, quindi un pescato del giorno, quindi sei già ottimo, allora io invece prendo un pesce fritto a questo punto, così facciamo un po' di pescato del giorno e siamo al posto. Io prendo una tartare di fassona, che è la fassona, voi dovete sapere, scelta, mi correga, la razza è piemontese, la fassona è la femmina di razza piemontese che non ha ancora tartorito. Grazie. E niente, adesso ordiniamo e poi ci vediamo dopo.